Sbloccate le procedure di reclutamento del personale delle aziende sanitarie ospedaliere che riguarda il cosiddetto piano triennale del fabbisogno aziendale. Adesso i manager delle aspe siciliane potranno iniziare ad assumere il personale a tempo indeterminato. Dopo anni di annunci l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi ha quindi dato il via alle attese assunzioni in campo ospedaliero. Si parla di 5.138 unità che potrebbero essere reclutate secondo le varie procedure nelle 18 aziende sanitarie e ospedali della Sicilia. In particolare 1.481 riguardano le unità inserite in graduatorie che risalgono dal 2003 a oggi, 2.044 le stabilizzazioni tra medici, infermieri e personale socio-sanitario e amministrativi e 1.613 le mobilità e i nuovi concorsi. Nello specifico all'interno dell'ASP di Agrigento è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 473 operatori del settore così ripartiti, 92 infermieri, 12 operatori socio-sanitari, 14 anestesisti, 23 medici di pronto soccorso, 48 addetti alla parte amministrativa, 34 ausiliari, 20 cardiologi, 8 ginecologi, 14 ostetriche, 9 medici specializzati in radiodiagnostica, 6 psichiatri, 8 medici in neonatologia, 7 pediatri e un fisioterapista. Ora aspetta le aziende procedere al reclutamento del personale, ha dichiarato Baldo Gucciardi alla conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio a Palermo per l'occasione. L'intenzione è quella di privilegiare in primo luogo il reclutamento nelle aree di emergenza-urgenza, dai pronto soccorso alle terapie intensive. Questi numeri, ha continuato l'assessore, rispettano il tetto di spese imposto dallo Stato, ma allo stesso tempo anche l'equilibrio economico e finanziario di tutte le aziende ospedaliere e sanitarie siciliane. Le aziende, ha concluso Gucciardi, hanno dunque le risorse necessarie per procedere al reclutamento. Per completare il piano delle assunzioni, i manager avranno adesso tempo fino a tutto il 2017.